A settembre un bando per rifare il parcheggio di Piazza Mazzini di Gualdo Tadino. Lo ha annunciato il sindaco Massimiliano Presciutti parlando di un progetto per la riqualificazione e il rilancio del centro storico che segue una filosofia ben precisa, quella di potenziare le aree parchive adiacenti il centro prima di interdire completamente la sosta in Piazza Martiri e creare un'isola pedonale anche oltre l'estate. Nell'idea infatti dell'amministrazione comunale Piazza Mazzini sarà un parcheggio non solo interrato ma anche in superficie. La motivazione sta nella necessità di aumentare i posti auto a disposizione favorendo anche l'accesso a servizi come farmacia comunale, ambulatori medici e poste che insistono sull'area. Prima di giungere a questo però sarà necessario riqualificare la struttura che seppur vanta un esiguo numero di anni di vita fu inaugurata nel 2009 dall'allora sindaco Angelo Scastellati è già a tratti inagibile. I suoi principali problemi derivano dall'infiltrazione di acqua piovana proveniente dalla piazza nei piani interrati. Un difetto che secondo una prima perizia sarebbe dovuto al tipo di pavimentazione scelta ovvero mattoni porosi che di fatto assorbirebbero l'umidità. A questo si aggiunge un problema di carichi che ha impedito sinora di sistemare sulla piazza mezzi e strutture particolarmente pesanti. Nelle passate edizioni dei giochi delle porte lo stesso maxischermo collocato su un furgone è stato fatto parcheggiare sul lato verso le poste evitando di ingombrare l'area più prettamente pensile della piazza. La ristrutturazione del parcheggio sarà affidata tramite bando ad un'impresa disponibile ad un rapporto con il comune di project financing ovvero a fronte di un investimento in denaro da parte del privato per i lavori l'ente pubblico si impegna a dare la gestione dei parcheggi allo stesso per un certo numero di anni. In attesa di settembre quando uscirà il bando la prossima settimana nei giorni del 24 e 25 agosto verrà chiusa al traffico veicolare via Storelli per consentire lavori di manutenzione stradale nel tratto antistante la cattedrale di San Benedetto reso impraticabile da buche ed avvallamenti della pavimentazione.